Ciao amici di Sky, sono Sidney Sibilia e sto qua perché vi devo fare un annuncio importantissimo. Talmente importante che abbiamo fatto costruire così, per fare questo annuncio, questo palco bellissimo. E da breve inizieranno le riprese della mia prima serie TV, che non l'avevo mai fatta prima. Però c'è questa storia che ho urgenza di raccontare, che è una storia che mi sta molto al cuore. La storia è di due ragazzi e di come con la loro straordinaria avventura loro cambiano la musica italiana. Ma perché ve la sto raccontando io? Che noi qua abbiamo, visto che è una storia vera, noi abbiamo il protagonista di questa storia. Ciao a tutti, ci vediamo prossimamente su Sky con Hanno Ucciso Lomoragno, la vera storia degli 883. Cioè l'abbiamo fatto un annuncio bellissimo, diciamo la cosa essenziale. E ci vediamo presto su Sky. Noi però, ci saranno degli attori, no? Che in termini che in documentario è una cosa fatta. No, no, è una cosa fatta. Noi siamo qua perché con voi testimoni, ti chiediamo il permesso di raccontare la tua storia. Permesso accordato, tutto, liberi, liberi. Tutto, diciamo cose terribili, direi, le peggio cose. Assolutamente, anzi, quelle sono quelle più importanti da raccontare. Quelle sono cose. Grazie, ci vediamo su Sky. Ciao a tutti. A presto su Sky, ciao.